carissimi ragazzi e ragazze in ascolto, a tutti ascoltatori di Radio Buon Consiglio, un santo pomeriggio a tutti, Ave Maria, da Leonardo Maria Pompei, bentornati a questa nuova puntata di Spazio Giovane, chi vi parla come sempre è appunto Don Leonardo, facciamo una nuova puntata del ciclo di Catechesi dedicato alla Divina Volontà, siamo ancora nella sezione dedicata alla lettura di alcuni brani scelti sulla Divina Volontà, il primo dei quali oggi è davvero molto 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 bello e penso che sia anche un brano molto consolante e pieno di speranza e soprattutto adatto a chi desidera, come ogni santo e vero fedele cattolico auspica, di vedere il rinnovamento, la trasformazione in meglio della Chiesa, il risplendere sempre più grande della luce di Cristo in essa e la fine anche di tante brutte vicende che sappiamo stanno ahimè coinvolgendo anche in maniera a volte drammatica anche qualche uomo di Chiesa con grande sofferenza da parte di tutti noi. Quindi abbiamo già visto diverse volte in occasione del commento degli iscritti sulla Divina Volontà che, almeno a mio modestissimo avviso, attraverso questi iscritti si danno delle luci molto molto belle, anzitutto sui modi, come dire, migliori, più efficaci, più sereni e più pacifici per favorire il rinnovamento della Chiesa e degli uomini di Chiesa. Abbiamo visto che fare soltanto un atto nella Divina Volontà smuove l'universo intero e produce degli effetti benefici straordinariamente grandi. Luisa Piccarreta ha passato la vita a non fare nulla da un punto di vista esteriore e a fare tutto da un punto di vista interiore. Allora, anzitutto, io ho sempre raccomandato il rinnovamento della Chiesa passa attraverso la santificazione personale di ciascuno dei membri e, a mio avviso, mai, mai, attraverso forme di critica, giudizio, messa al bando, denunce o cose di questo genere, tutti quanti strumenti che anche quando vengono, come dire, espletati a fin di bene, certamente, no? Quindi nessuno dubita della buona fede e delle buone intenzioni anche di chi ricorre a queste modalità per sollecitare il rinnovamento nella Chiesa. Ma, a mio avviso, io ho sempre molti dubbi che siano sottoscritte dall'Altissimo perché questo stile non è, a mio avviso, né quello gradito a Gesù, né tanto meno, specialmente per i teori della Madonna, quello gradito alla Madonna. La Madonna sono due secoli che raccomanda i suoi strumenti di risoluzione dei problemi, che sono la preghiera e la penitenza. Noi abbiamo anche lo straordinario a portare a degli atti compiuti nella Divina Volontà che hanno una straordinaria efficacia, evidentemente per chi ci crede, perché hanno la capacità di attirare la potenza trasformante, santificante del Dio in volere su tutto e su tutti. Certo, sappiamo anche dagli scritti che questa potenza attua evidentemente sempre nel rispetto della libertà e dei liberi arbitri, delle persone su cui si posa, anche quando, soprattutto quando viene chiamata, diciamo così, da una persona diversa. Però questo non toglie che questa forma del tutto peculiare di pregare è avente un'efficacia assolutamente straordinaria. Ed è certamente la più consona e la meno controindicata, perché non produce nessun tipo di rumore all'esterno. Cioè, supponiamo che ci sia, facciamo un esempio, un uomo di chiesa che io vengo a sapere, ne ha fatta qualcuna, che non va tanto per la quale. Se io metto un ti amo nel cuore di quell'uomo di chiesa, invocando, scorrendo nel Divino Volere, e invocando dal Signore, per quel ti amo, che io metto in quel cuore, traviato sicuramente, l'ha agito in buona fede, venga, oh Signore, il Regno del tuo Fiat Supremo in quell'anima, io ci metto il mio ti amo, riparo per quanto posso attraverso questo atto, prendendo dalle tue riparazioni questo comportamento, questa parola, questa scelta inadeguata che è stata fatta, punto. Questa è una cosa che non la sa nessuno, non la sa nel diretto interessato, è una cosa che riguarda, come dire, me e Dio, ma pur essendo così interiore, quindi così silenziosa, è una bomba, cioè non c'è cosa più grande che si possa fare che un atto di questo genere. Se ci fosse stato qualcosa di più grande, credo che l'abbiamo visto la settimana scorsa, la Madonna l'avrebbe fatto quando era in vita, ma come si legge negli scritti, forse è uno dei brani che abbiamo già letto, abbiate pazienza, dal momento che io faccio molto spesso interventi sulla Dina Volontà non riesco poi a connettere sempre dove ho detto quella certa cosa. La Madonna durante la vita italiana non ha fatto niente di strepitoso, niente di clamoroso, niente di visibile, niente di apparescente, non ha fatto neanche un miracolo e la Madonna poteva fare tutti i miracoli che voleva. cosa ha fatto? Ha rifatto tutti gli atti di tutti gli uomini dentro il suo cuore causando tanta di quella grazia su tutti che ce ne accorgeremo soltanto quando arriveremo in paradiso. Se la Madonna ha fatto questo e nient'altro vuol dire che questa è la cosa principale da fare e non si venga a dire sì ma Gesù ha fatto anche altro perché Gesù ha fatto poco altro perché Gesù su 33 anni tre ne ha spesi nella predicazione e qualunque persona adesso prescindiamo dal fatto che è Gesù che è il figlio di Dio quindi non possiamo certamente metterci a discutere col figlio di Dio e giudicare l'operato del figlio di Dio ma io dico no quale persona se gli fosse lecito giudicare e valutare l'operato terreno di Gesù direbbe Gesù Cristo il figlio di Dio la parola di Dio il verbo del padre che ci era da edificare una chiesa da formare 12 ignoranti e tutta una montagna di folle predica tre anni e altri trenta ne resta nascosto. Quando poteva tranquillamente cominciare la predicazione a quei tempi a vent'anni potevi farlo tranquillamente vent'anni da loro non è un ragazzino come oggi. E noi dobbiamo chiederci ma perché ha fatto così? Perché la predicazione quindi l'azione che per carità è comunque necessaria perché l'azione apostolica alla chiesa è necessaria ma viene dopo il resto. Chi legge le ore della passione vedrà che Gesù dice voi mi impressionate certamente accompagnatemi durante l'ultimo tratto della mia passione che ci dà anche la conoscenza di dettagli anzitutto materiali ma anche interiori di quanto Gesù ha soffermato soffermato nell'orto del Getsemani che sono inediti ma io invito a fare attenzione a quante volte Gesù ripete ribadisce che i flagelli di fuoco i chiodi di fuoco le spine di fuoco lui addosso ce le ha avute per tutta la vita e dice che la passione che è come dire qualcosa di traumatizzante di atroce dice non era altro che lo sbocco ultimo di tutto questo mare di dolore che ha accompagnato tutta la mia vita terrena fin da quando sono stato concepito. Per cui le più grosse operazioni salvifiche ma questo vale per questo lo può fare chiunque non serve essere papa non serve essere vescovo non serve essere cardinale certo se certe cose le fa il papa o un vescovo o un prete c'è un valore enorme al cospetto di dio per il fatto che sono fatte da una persona che ha ricevuto il sacramento dell'ordine sacro e che è proprio deputato in quanto in forza del sacramento alla salvezza delle anime ma una povera persona ignorante e insignificante che è capace di offrire piccoli medio grandi sacrifici per il bene della chiesa ma fa un bene sterminato e se tu immagina immaginate un po se uno offre una penitenza o una mortificazione chiamando la divina volontà quindi trasformando quel digiuno in un atto infinito eterno e immenso cioè quanto vale quel digiuno quanto vale quella mortificazione quanto vale quell'esercizio penitenziale che uno può scegliere di fare se uno lo fa in questo modo infinitamente e quanto vale girare rigirare 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 qualunque sia vedi una persona di chiesa che ti sembra che faccio qualcosa che non fatti un bel giro fai un bel giro entra nella divina volontà entra in quel cuore portagli il fiat dentro quel cuore che cosa produce questo effetto produce che la grazia che è l'unica che può toccare i cuori gli darà come dire un'ispirazione gli farà venire un pensiero gli suggerirà che forse si sta sbagliando se veramente si sta sbagliando e se non si stesse sbagliando magari ha fatto bene e tu pensi male ma quello ha fatto bene perché può succedere anche questo un numero di se risparmiare di fare una critica falsa d'accordo inopportuna e numero 2 comunque quella preghiera è gradita lo stesso perché tu l'hai fatta in buona fede pensando di aver visto qualcosa che non andava che invece non c'è niente che non va io penso che queste cose bisogna fare attenzione bisogna pensarci profondamente ora leggo il testo perché sennò mi dilungo come sovente capita però guardate più tempo passa e più conosco meglio gli scritti più vedo anche osservo tante cose insomma perché io sono un uomo di chiesa sono un parroco sono un prete quindi non è che non le vedo o non le so tante cose le vedo e le so io mi vado convincendo ogni giorno di più che entrare nel mondo del divino volere come tra l'altro ascolteremo anche adesso è oltre che il regalo più bello e più grande e la svolta di vita che può rappresentare per ciascuno di noi personalmente anche la cosa più grande che noi possiamo fare a bene della chiesa e dell'umanità intera non esiste azione più benefica che noi potremmo porre in essere non c'è questo è questo è questo è quello che si vede chiarissimamente dagli scritti di luisa io personalmente ci credo certamente siamo tutti quanti bellissimi di non crederci però ecco adesso passiamo all'ascolto allora leggo febbraio 10 1924 siamo bellissimo mi avviso volume 16 volume 16 tra quelli diciamo così che iniziano a parlare della divina volontà a mio modestissimo avviso è uno dei più belli ci sono dei passi ne abbiamo letti diversi davvero profondi e significativi il titoletto che sapete questi titoletti non sono originali di luisa ma sono stati diciamo redatti da da coloro che hanno sistemato un pochino gli scritti per renderli accessibili dice così la dottrina sulla divina volontà è la più pura la più bella per la quale sarà rinnovata la chiesa attenzione trasformata la faccia della terra la verità sulla divina le verità sulla divina volontà trasformano le anime in luce e le divinizzano l'abbandono nella divina volontà comincio adesso la lettura stavo pensando tra me a tutto ciò che sta scritto in questi giorni passati e dicevo tra me che non erano cose né necessarie né serie potevo fare a meno di metterle su carta ma l'ubbidienza ha voluto e io ero in dovere di dire il fiat anche in questo ma mentre ciò pensavo il mio amato gesù mi ha detto figlia mia eppure era tutto necessario per far conoscere come si vive nel mio volere non dicendo tutto tu faresti mancare una qualità del modo come vivere in esso e quindi non potranno avere il pieno effetto del vivere nella mia volontà come per esempio sull'abbandono del vivere nel mio volere questo è un concetto fondamentalissimo degli iscritti e certamente avremo modo di approfondirlo se l'anima non vivesse del tutto abbandonata nella mia volontà sarebbe come una persona che vivesse in un famoso palazzo ed ora esce ad una finestra ora ad un balcone ora scende al portone sicché la poveretta poco di passaggio vi passa da qualche stanza sicché non se ne intende né del regime né del lavoro che ci vuole né dei beni che ci sono né ciò che può prendere né ciò che può dare chissà quanti beni ci sono e lei non se ne intende perciò non ama come dovrebbe amare né fa quella stima che merita quel palazzo l'abbandono nella divina volontà esercizio in cui ci metto una piccola parentesi non siamo mai esercitati abbastanza perché è assolutamente comprensibile che a noi esseri umani poveri esseri umani aggiungerei sfugge come dire anche la concepibilità non solo immaginarsi come faccia ma proprio concepire una cosa di questo genere già come fa dio a disporre predisporre ogni singolo istante pensiero momento di tutti gli esseri umani presenti passati futuri in ogni istante in eppure ogni tanto ci date dei barlumi racconto l'ultimo episodio gli episodi significativi che poi uno per forza ci fa ci fa caso no stamattina doveva venire degli degli operai qui in canonica mi fanno un messaggio stavo per cominciare la meditazione mattutina dice ma sa siamo partiti arriveremo tra una mezz'oretta il messaggio era di circa una ventina di minuti prima dico no io non posso aspettare fare la meditazione perché dopo per andare confessionale c'è delle cose da fatico la meditazione la devo fare moglie mando un messaggio di guardate e io adesso va di registrazione se doveste aspettare abbiate pazienza finisce la meditazione io ci metto punto passano cinque secondi arriva il messaggio siamo arrivati hanno fatto da sono arrivati esattamente cinque secondi dopo che è finita la meditazione e a quello che mi avevano scritto sarebbero dovuti arrivare almeno venti minuti prima almeno è una stupidaggine dice se partiremo a raccontare queste cose insomma d'accordo insomma cioè che il modo con cui noi affrontiamo tante cose no cambia se uno è abbandonato la divina volontà nel senso che uno si occupa di tante cose ma veramente non si preoccupa più di niente la preoccupazione non c'è l'occupazione sì la preoccupazione no perché la preoccupazione è un atto proprio è un atto tipico di volontà umana perché preoccuparsi vuol dire che so io che devo organizzare so io che devo disporre so io che devo sforzarmi so io che devo rimediare non è che non funziona così cioè noi l'abbandono è un atto che richiede certamente un atto positivo di volontà e attenzione ancora una volta non si tratta di quietismo di starsene con le braccia concerte di stare tutto il giorno sul letto aspettare che dio fa le cose al posto nostro ci vuole sempre l'intelligenza no quindi noi lavoriamo ci occupiamo delle cose facciamo ma sempre con questa disposizione interna di vivere adagiati abbandonati perché se dio ti vuole stravolgere la giornata o stravolgere i piani o cambiare i progetti eccetera eccetera devi lasciare la libertà di poterlo fare perché se noi facciamo il braccio di ferro entro certi limiti possiamo come dire fare il braccio di ferro con l'altissimo ma sicuramente andremo a fare peggio e su alcune cose che l'altissimo poi dispone che comunque devono andare come dice lui non sappiamo quali sono quelle proprio disposti in un certo modo quali sono quelle flessibili a priori queste cose non si possono sapere ecco quando poi ci scor si scontriamo contro un decreto diciamo così della divina volontà e poi o ta degui o te spacchi la testa tra l'altro quindi non è che soltanto deve fare i danni o ta degui o ta degui ecco questo per quanto riguarda l'abbandono attenzione proseguro lettura ora per l'anima che vive nella mia volontà e non è del tutto abbandonata in essa quindi che vive nella mia volontà attenzione e non è del tutto abbandonata e dico prendiamo un'altra importante questa abbandona attenzione le riflessioni proprie penso io le cure di se stessa vedete le cure di se stessa mi preoccupo io a me di me i timori e se questo va così e se questo c'è cosa è qua è la le turbazioni i turbamenti cioè che sono apparentati con i timori no non sono a cosa sono in quelle immagini tutto fatto sono altro che le finestre i balconi i portoni che si forma nella mia volontà capite usciamo dalla divina volontà facendo queste cose quindi uscendo spesso spesso è costretto a vedere e sentire le miserie della vita umana queste sono miserie non è roba per noi e siccome le miserie sono proprietà sua e le ricchezze della volontà sono mie si attacca più alle miserie che alle ricchezze onde non prenderà amore quindi tutto quanto guardate che dio fa prodigi di amore cioè ogni nostra giornata cioè dio non sa dire altro che ti c'è dio ogni secondo che sta passando anche adesso mentre io sto parlando sta pronunciando una sola parola incessante che ti amo se tu quest'amore non lo senti non lo vivi non te ne accorgi guarda che si dipende soltanto da una cosa tu non stai dentro la divina volontà punto non ci non lo sentiresti se uno fa tutte queste cose dice gesù non prende amore né gusterà che significa vivere nel mio volere non solo peggio peggio avendosi formato il portone se tu ti abitui a pensare con la capoccia bacata tua la nostra capoccia bacata è pure la mia è tutto tutte le capocce sono bacate appena cominciamo a a ragionare cominciano a fare danni le cure di noi stessi tu non ti preoccupate niente di zero di te si preoccupa nostro signore gesù questo tu non ti preoccupa preoccupati delle cose sue cioè i figli della divina volontà fanno un patto d'accordo anche i figli di maria fanno un patto ora tu ti preoccupi delle cose della madonna o delle cose di una volontà tanta stessa cosa la madonna non si occupa di altro che di questo e loro si preoccupano delle cose due bisogna fare questo 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 patto però se tu vai di questione tue cure di te stesse timore e turbazioni cosa dice gesù ti stai formando il portone il portone riuscita quindi non soltanto il balconcino alla finestra dalla finestra non si affaccia ma non è che può uscire a meno che non si buttare sotto sfracella ma se fai il portone quindi abituando di a fare queste cose comincia a fare proprio un bel portoncino sua dente un giorno o l'altro se ne andrà e attenzione che succede per vivere nel misero tu murio della sua volontà io quando sento questa espressione qui qualcuno giorno l'altro mi dirà sei petulante dici sempre le stesse cose però che ci posso fare allora io quando sento tu murio della propria volontà non posso non ritornare i miei primissimi giorni alla come dire all'innamoramento della divina volontà e la conseguente immediata luna di miele quando proprio in in quelle bellissime meditazioni la vergine maria regno della divina volontà si moltiplicano queste cose la madonna dice guarda cioè tu devi sta attento cioè se tu vuoi fare tutto quello che ti pare ma buon divertimento fai pure cioè ti condanni ad una vita espressioni come tu curio della volontà umana i cienci dell'umana volontà i cienci tu sei come uno straccione a tu potresti andare vestito che altro che una volta avevo casa vestiti firmati non so più niente c'è le grandi empori miranesi e quando ero giovane c'era armani versace erano questi grandi noi non so chi a che va di moda tutto avresti tutto quanto in tiro d'accordo che si girano tutti quanti già hanno visto quanti sordi che c'ha come va in giro vestito allora vestito come come uno straccione come un pezzente come come un miserabile con tutti i vestiti rotti le scarpe rotte tutto sozzo comanda c'è chi chi è quel quel matto che farebbe una cosa del genere è matto uno che fa così no il matto è quello che fa delle cose irragionevoli è questa è una cosa irragionevoli perché se tu puoi vivere una vita da re e vai a vivere una vita da da pezzente se non essere irragionevole ora chi di noi non ha mai fatto esperienza perché capite tu curio cencio tristezza noia tedio morte dice la sacra scrittura chiunque commette il peccato gusta la morte la cosa più brutta che possono succedere il peccatore campamali che dobbiamo mettere bene in testa non rifaccio le catechesi che ho fatto che stanno ammidiati insomma si guarda approfondire quando ero più cattivello insomma che che sparavo pesante insomma per carità tanto troppo male non credo di aver fatto insomma no però sulle conseguenze nefaste del peccato perché le persone non devono devono capire questo questo quest'illusione che l'illusione satanica per antonomasia che è lo che la molla attraverso cui il demonio tiene sotto schiavitù le persone le fa le fa andare di peccato in peccato in continuazione con l'illusione che se faccio tutto quello che mi pare se me gusto tutti i piacenti della vita se me va io sarò felice d'accordo o che qua quanto starò bene non è vero questa è una bugia questa qui è una menzogna e io pure ragazzini quando gli spieghi dieci comandamenti dico scusa dico tu mi fa capire una cosa ma tu mi fa capire soltanto una cosa ma dio ti vuole felice o ti vuole infelice ammesso che esista un dio nei confronti di una creatura di un essere che ha creato ma dico santo cielo lo vuole felice o lo vuole infelice perché se lo vuole infelice non ne parliamo più io divento ateo perché un dio che mi rende infelice io non lo voglio nel corto che razza di dio è il diavolo è uno che ti vuole infelice non è dio allora ti vuole felice se ti dice di non fare una cosa dicendo che quello è peccato mortale e dice ma a me invece mi sembra tanto bello ma chi l'ha detto ma ci stanno semplicemente certe cose bellissime soggetti che te peccato mortale allora che qui c'è il contrasto tra quello che è e quello che sembra se tu credi perché devi fare un atto di fede in primis che dio non può volere il tuo male fai un passo indice a me mi sembra tanto bello però dice te no a spendiamo tempo a papà approfondiamo proviamo vediamo perché può darsi che mi sono sbagliato quello io penso che sia tanto bene che di tanto felicità tanto bello e tanta felicità non me la dà c'è poi chi sciaguratamente purtroppo lo sa per esperienza propria c'è un prete che ha avuto la fortuna come sottoscritto di confessare tanto e tante storie insomma drammatiche poi se lo vedete davanti agli occhi tutte le persone che ritornano al signore dopo una vita di lontananza non sono state contenti a fare la vita che hanno fatto sono state le persone più felici del mondo e si pentono ma non nel senso capito che si pentono come un bambino cioè si pentono proprio nel senso ma magari potessi tornare indietro e aver speso diversamente la mia vita averla vissuta meglio per me per tutti perché sono stato male me la sono rovinata da solo capite il tugurio della sua volontà vedi dunque com'è necessario continuo la lettura il pieno abbandono in me per vivere nella mia volontà pieno abbandono in me l'abbandono è un atto grandissimo di culto che si dà al signore perché se tu ti abbandoni ti dici ma io ti do fiducia al cento per cento non ci può essere nemmeno una virgola che tu disponi per me che non sia il tuo ti amo in atto e io mi sono stufato di andare a passare una vita facendo finta che tu non me lo dici e andare invece a cercare tanti ti amo che nessuno anche nessuno te li dà poi non te li dà nessuno perché noi non ci ama nessuno così come vorremmo essere amati questo mettiamocelo bene nessuno manco tuo marito e manco tua moglie per quanto ci possa avere un matrimonio felicissimo che dio ti benedica ma quello che profondamente tu senti quell'amore che cerchi non te lo non ce l'hanno le creature c'era soltanto il creatore ecco mi sono stufato e quindi io mi abbandono perché ti dico io ci credo e come oggi il nostro signore d'ha messo sta croce è un ti amo c'è stato sto contrattempo questa brutta notizia è un ti amo tutto cioè proviamo a immaginarci noi siamo esseri umani siamo persone intelligenti come si camperebbe se uno fosse capace a fare sempre così io rappresentando il mio cosiddetto genico si camperebbe come le persone più felici dell'universo perché a capirlo lo capisco poi a viverlo è un'altra cosa ma capirlo io lo capisco allora riprendo vedi dunque come è necessario il pieno abbandono in me per vivere nella mia volontà essa non ha bisogno delle miserie della volontà umana non ce l'ha bisogno la vuole la creatura a vivere insieme dio vuole vivere vuole vuole farti vivere con lui non è che vuole vivere con te vuole farti vivere da dio con lui la vita è una divina volontà attenzione questo non è dice mo sta a sparare megalomani la vita nella mia volontà è una vita da dio non è uno scherzo la vuole la creatura vivere insieme bella come la uscita al suo seno senza il misero corredo che si è formato nell'esilio della vita il misero corredo te lo sei formato tu e me lo ando a pochetto di luce me ne accorgo di qualcun'altra che c'erano proprio fino a sopra i capelli che non c'ho è cosa proprio sgonfiato proprio stufato perché poi uno guardando retrospettivamente si accorge no che qualche anche quando andavi come dire avere più belle intenzioni cercare tutto il bene che ti pare e c'è questo certamente questo certamente rende comunque benevolo lo sguardo del signore nei nostri confronti però hai agito di volontà umana perché ti accorgi che non hai fatto la cosa giusta che non l'hai fatta bene non è fatta al momento opportuno a tempo opportuno io in continuazione passo le parte cioè mi come dire mi vengono in mente in questo sguardo che è importante che lo manteniamo diciamo introspettivo e retrospettivo su noi stessi e io quindi questo lo vedo cioè io lo vedo che mi sono fatto un corredo pessimo d'accordo bruttissimo brutto brutto e questo vale anche se uno non fosse stato un grandissimo peccatore non fa niente non serve che uno fatto ne fatte quante carli in francia io per grazia di dio da tante cose non so perché sono stato preservato dalla divina volontà senza nessun mio merito però c'è tanta volontà umana c'è tutta la nostra esistenza quindi dio la creatura la vuole a vivere insieme bella come l'uscita al suo seno senza il misero corredo che si è formata nell'esilio della vita altrimenti ci sarebbe disparità che porterebbe dolore alla mia volontà ed infelicità alla volontà umana cioè disparità capite che significa cioè dio ti vuole portare al suo stesso livello certamente per grazia non perché tu ti metti a fare lo spocchioso il superbo o lo splendido no è un è un atto di condiscendenza è un atto di amore ma è un atto vero cioè che dio lo vuole fare per il bene che produce in te fuori di te allora vedete vedi come è necessario far capire che ci vuole il pieno abbandono per vivere della mia volontà ricordiamo questo aspetto pieno abbandono lasciare le brighi noi stiamo sempre troppo preoccupati di tenere in mano le retini della nostra esistenza e di portarla indirizzarla dove vogliamo noi dove desideriamo noi questo siamo padronissimi di farlo perché la nostra libertà e la nostra volontà è inviolabile dio non la tocca è non costringe nessuno a fare diversamente ma ti precludi la bellezza della vita nell'abbandono che ti porta a questa veramente davvero fusione con il voler divino che ti porta a vivere la sua stessa vita come lui desidera per noi ripeto vedi come è necessario far capire che ci vuole il pieno abbandono per vivere nella mia volontà e tu dici che non era necessario scrivere su ciò io ti compatisco perché tu non vedi ciò che vedo io perciò lo prendi alla leggera invece nella mia onniveggenza e qui attenzione io vedo che questi scritti saranno per la mia chiesa come un nuovo sole che sorgerà in mezzo ad essa e che gli uomini attenzione attratti dalla sua luce sfolgorante si applicheranno per trasformarsi in questa luce e uscire spiritualizzati e divinizzati per cui rinnovandosi la chiesa trasformeranno la faccia della terra io ritengo in questi scritti ce ne sono di frasi che ti lasciano proprio che dice uno dice veramente no non è possibile rileggo io vedo che questi scritti lo vedo nella mia onniveggenza saranno per la mia chiesa come un nuovo sole che sorgerà in mezzo a nessun nuovo sole perché cose antiche e cose nuove perché molte cose sono antiche ma tante cose sono nuove cioè entrare nella divina volontà tramite l'abbandono tramite gli atti e tante altre cose che si fanno e quindi trasformarsi in questa luce cioè la potenza la potenzialità di conversione che c'è nella vita è veramente immensa cioè una persona è trasformata è cioè diventa un'altra diventa cioè ovviamente rimangono i suoi accidenti il suo carattere la sua personalità tutto quello che vuoi ma è un'altra persona è divina non è più umana se ne esce spiritualizzati e divinizzati e che succede ogni uomo e ogni donna vede come come si rinnova la chiesa cosa ho detto io all'inizio come cambia la chiesa la chiesa cambia se diventi santo tu allora ogni persona che entra nella divina volontà e per forza perché se ci entri tu ne esci spiritualizzato e divinizzato se spiritualizzato e divinizzato non ci sei non ci sei entrato forse sei illuso forse non hai capito niente forse ti sei illuso che basta di qualche volta fiat o fa qualche altra sciocchezza e non sei entrato dentro ma se ci sei entrato tu non sei più lo stesso allora per cui rinnovandosi la chiesa trasformeranno la faccia della terra attenzione per essere trasformati in questa luce bisogna applicarsi quello che stiamo dicendo dall'inizio di queste catechesi applicarsi applicarsi moltiplicare cioè non pensare ad altro rimanendo ovviamente copiti per terra capite io spero sempre che tutti gli ascoltatori di queste cose capiscano nel senso delle frasi a effetto che si dicono no cioè non pensare ad altro sono stato la mattina la sera seduto a pensare a legge è questo d'accordo io continuo a fare il prete come ho sempre fatto c'è la bolla messa confesso faccio i sacramenti ho da benedire case sto in ufficio barrocchiale faccio i funerali che ne so predico faccio le catechesi scrivo gli articoli cioè faccio le stesse cose che ho sempre fatto d'accordo ma è tutto differente è tutto trasformato l'atteggiamento il comportamento ma il cuore l'interno della persona non è più la stessa e uno se ne accorge proseguo la lettura sentite che bello la dottrina sulla mia volontà è la più pura la più sobella non soggetta ad ombra di materia o di interesse tanto nell'ordine soprannaturale come nell'ordine naturale e perciò sarà a guisa di sole la più penetrante la più feconda e la più benvenuta e accorta queste parole meritano una cornice allora quando la chiesa che li sta già studiando in congregazione dell'ordine della fede conoscerà bene queste cose numero uno si sappia che la congregazione dell'ordine della fede ha già dato un documento ufficiale un po' di anni fa non ci metto niente nella prossima puntata se si interessa andare a dare riferimento data, mese e giorno perché basta che faccio una telefonata e mi vengono questi dati in cui è stato formalmente dichiarato che negli scritti del libro di cielo non c'è niente di contrarre la fede cattolica ma questo è un'affermazione pletorica però è pesante perché se è uscito dalla congregazione dell'ordine della fede è pesante ma quando la chiesa riconoscerà qualunque figlio della chiesa qualunque uomo di chiesa qualunque prete qualunque vescovo qualunque cardinale qualunque papa vedendo queste cose ma che cosa gli vai a dire? cioè questa è è la vita divina questa qui capite? non solo la vita divina la vita divina resa accessibile a chi lo desidera a guisa di sole io scusa quando ho letto queste cose penso sempre mi ha subito in mente il Papa Francesco che sta sempre giustamente a redarguire tutti i membri della chiesa dal pericolo di operare di agire per interesse non mettiamoci come dire non nascondiamoci la faccia di trono a mano è un pericolo reale cosa dice Gesù in questa dottrina non esiste non esiste ombra di materia o di interesse tanto nell'ordine sovranaturale come nell'ordine sovranaturale giustamente Papa Francesco ogni tanto tira le orecchie e fa bene sul Dio soldo il Dio soldo non è roba per figli di Dio cioè non è non si tratta di essere pauperisti o fare la chiesa dei poveri ma il problema denaro io ci ho fatto diverse catechesi il problema denaro è un problema da affrontare perché noi cristiani noi figli di Dio non abbiamo lo stesso rapporto con i soldi che hanno gli altri non ce l'abbiamo manco per niente non abbiamo questo tipo di rapporto io come dire nel cristiano medio non si sente che ci sia una formazione adeguata sul problema soldo perché il problema soldo è un problema soldo è un problema grosso perché i soldi sono nell'idolatria delle tre S sono soldi di sesso e successo ma i soldi se la giocano se la giocano a braccetto col sesso a chi è il più forte d'accordo quindi certamente quando una persona si converte veramente il problema sesso emerge subito d'accordo il problema soldi sta sempre un po' poi il problema superbia sta proprio che è quello del successo rimane parecchio nell'ombra quindi ci vuole molto cammino per far emergere fuori e che una persona ti riconosca se ti immazza quanto sei superbo e come devo darmi una calmata come devo essere più umile più dimesso in tante circostanze in questa dottrina non c'è niente di tutto questo non c'è niente cioè queste robe qui non c'entrano proprio d'accordo la dottrina è la più pura la più bella io non ho mai io personalmente cioè guardate insomma sono un povero prete non sono certamente qualcuno pensa ogni tanto mi vengono le cose che io sia colto o cose di questo genere cioè quattro cose cioè non le persone colte sono su un altro pianeta sono d'accordo ma per quanto per quello che ne so per quel poco che ne so io non ho mai visto niente di più bello niente mai niente di più puro qui non c'è proprio non c'è tu ci sai le varie spiritualità che si sono succedite nel corso della storia della chiesa sono tutte bellissime ma tu capisci che se le metti in mano magari possono avere qualche controindicazione qualche piccola cosa qui no qui no non ci stanno non ci sono controindicazioni non soggetta ad ombra di materia non c'è niente di materiale o di interesse non c'è niente che ti porta verso l'ego qui assolutamente niente d'accordo e perciò sarà guisa di sole la più penetrante la più feconda quindi capite non è una lettura sterile come dire uno uno sballo spirituale mo ci abbiamo la moda della divina volontà andiamo a fare gli striscioni con la scritta fiat e canta è bello mo ci abbiamo sta cosa nuova fino a quando non ci stufiamo e poi cambiamo orizzonte no la più penetrante è la più feconda quindi non è una moda passeggera è qualcosa che genera santità in continuazione e la più benvenuta è accolta non può non essere la benvenuta non può non essere la benvenuta noi sapete che si narra come dire una sorta di colloquio a distanza che ebbero a suo tempo padre Pio e Luisa perché sapete gli iscritti di Luisa siccome il diavolo non li stava ovviamente a guardare per un periodo ebbero qualche problemino di accoglienza in quel di Roma problemino che poi è stato definire è definitivamente cessato e ribaltato da quello che vi ho adesso detto per grazia di Dio è evidente che il diavolo sia inviperito inferocito io ritengo contro questa roba qui perché se questa roba qui entra io devo andare a rivedere le puntate precedenti allora facciamo attenzione a una cosa se uno entra nella divina volontà il demonio ha chiuso sapete ha proprio chiuso cioè non te vede proprio più ci può mettere un bel addio guarda non ti può fare più niente ma se significa niente niente se una persona vive sul serio questa roba qui è inattaccabile l'unica cosa che il signore gli può permettere se glielo permette è che ti venisse a ammazzare di botte ma io ho qualche dubbio questa è una cosa mia personale che nella pienezza della vita nella divina volontà possa succedere che il demonio ti ammazzi di botte a meno che non ci sia una particolare permissione divina io non credo che la Madonna sia stata mai ammazzata di botte dal demonio eppure doveva essere la corredentrice a Gesù è stato consentito per le ore della passione di farne carneficina ai demoni ma questo era necessario per la redenzione d'accordo altrimenti non sarebbe mai potuto succedere quello che è successo mai come dice Gesù il demonio non ha nessun potere su di me e non è che non aveva nessun potere su Gesù soltanto perché Gesù era il figlio di Dio no non aveva nessun potere nemmeno sull'umanità santissima di Gesù perché era accusa con il Fiat Supremo lì non ci può entrare il demonio per cui che il demonio faccia la quarta quinta sesta guerra mondiale contro questi iscritti io ne sono sicurissimo insomma per chiudere in quel periodo sembra che padre Pio ad una persona che gli chiedeva insomma di Luisa abbia un pochettino per rispetto alla chiesa che i guai ce li aveva passati anche lui suggerite un attimo un po' di prudenza e di attenzione quando riferirono una cosa a Luisa mando subito dire dite al caro e santo padre che i problemi ci sono semplicemente per un motivo perché la chiesa ancora non conosce bene questi iscritti perché se li conoscerà bene questi iscritti non possono avere problemi cioè non è una cosa che va contro la chiesa ma è una cosa che non è ancora perfettamente conosciuta ma quando sarà conosciuta dice Gesù sarà la più penetrante la più feconda la più benvenuta altro che guardarla con sospetto e bene accolta e siccome è luce come Dio che è luce continuo la lettura da per se stessa si farà capire e si farà via io dico le persone cioè i sacerdoti i vescovi e ovviamente il papa che è il primo dei vescovi e il primato ovviamente dei vescovi non soltanto il primo c'è il primato di Pietro che è assolutamente indiscutibile sono quelli che possono capircela meglio e più velocemente a mio avviso da per se stessa si farà capire e si farà via non sarà soggetta a dubbi a sospetti di errore e se qualche parola non si capirà bellissimo questo che dice sarà la troppa luce che glissando l'intelletto umano non potranno comprendere tutta la pienezza della verità ma non troveranno una parola che non sia verità qui ci sono anche una sfida non troveranno una parola che non sia verità al più non potranno del tutto comprenderla e questo può succedere perché delle volte in alcuni iscritti io stesso insomma veramente va talmente in alto e spiega delle cose talmente grandi talmente sottili che io mi rendo conto insomma io che ho un bagaglio insomma alle spalle di conoscenze anche teologiche rimango con due occhi così e capisco ma standoci molto attento immagino insomma un po' arolaico ma basta dire a sto discorso non è per questo come abbiamo visto la volta scorsa che i sacerdoti hanno un compito fondamentale in questo avvento e diffusione della dottrina della divina volontà perché possono spezzarla possono decodificarla se la assimilano la vivono la comprendono e poi la spezzano appunto per coloro che ne sono interessati quindi perciò in vista del bene che vedo ti spingo a nulla tralasciare di scrivere e chiaramente quando Gesù dice a nulla tralasciare di scrivere cosa sta dicendo indirettamente a noi se nulla deve essere tralasciato di scritto nulla deve essere tralasciato diletto e meditato i libri di cielo vanno letti tutti parola per parola dalla prima riga dal primo volume all'ultima riga del volume 36 questo deve essere il primo obiettivo di un aspirante figlio della divina volontà leggere tutti i volumi tutti tutti ovviamente il resto lo capiremo da soli ecco io ho seri sospetti avendo trovato questa fonte purtroppo come dicevo prima dovendo continuare a fare il sacerdote parroco e quindi non potendo dedicare come desidererei 4-5 ore al giorno alla lettura di queste cose ma i tempi sono molto più limitati presumo che per i prossimi 100 anni non avrò molto tempo di occuparmi di molte altre cose anche perché leggerli una volta e scritti di cielo non è sufficiente questi vanno riletti riletti vanno meditati vanno interiorizzati vanno vissuti vanno messi in pratica poi vanno ripresi poi vanno cioè è un lavorio continuo ma a mio avviso non c'è niente che ne valga di più la pena d'accordo quindi non tralasciare nulla di scrivere non tralasciamo di nulla leggere e Gesù lo spiega perché un detto un effetto una similitudine sulla mia volontà per esempio oggi ha fatto la similitudine del palazzo delle finestre del balcone del portone e questo ce lo dobbiamo ricordare d'accordo può darsi che qualcuno sentendo questa similitudine gli resta impressa perché termine e poi volevo dire una parola di commento scusatemi ogni tanto perché temo sempre che mi sfuga qualche pensiero questo spero che non mi sfuga e poi lo riprendo però arrivo al punto un detto un effetto una similitudine sulla mia volontà può essere come una ruggiata benefica sulle anime come benefica la ruggiata sulle piante dopo una giordana tesoro al dente come una pioggia di rotta dopo lunghi mesi di siccità ora perché è importante che Luisa scriva tutto e che noi leggiamo tutto per un motivo molto semplice che le nostre anime sono tutte differenti sono tutte differenti una cosa che colpisce a me io per esempio lo vedo lo vedo anche in me voi sapete io sono abbastanza impegnato per motivazioni non inerenti alla mia volontà questa cosa sta andando in onda su Radio Buon Consiglio perché le suore volontà loro ormai da 4-5 anni mi hanno affittato la trasmissione spazio giovane cioè non è una mia invenzione una cosa che io mi sono messo seduto adesso vado su facebook vado su internet registro sto video e parlo di questo no e gli argomenti sono usciti così piano piano le altre cose che si vedono anche in giro online non è che sono cose fatte apposto sono le omelie che faccio durante le messe le catechesi per gli adulti le catechesi per i giovani gli incontri biblici le ore di orazione sono tutte tante cose inerenti al mio ministero di sacerdote così come gli ebook che girano sono le raccolte degli articoli che ho scritto per giornali per quotidiano sul settimane di patrini tutte tante queste cose fanno parte d'accordo di quello che allora perché tutte quante queste cose io vedo delle volte non è che ci sto molto a pensare a quello a quello che faccio però uno ha un'isolanza interna magari uno fa una numeria dice ma che brutta l'umeria che hai fatto oggi uno se lo dice da solo che brutta l'umeria che hai fatto oggi secondo me questa ha fatto proprio schifo insomma non dice niente a nessuno ti arriva la mail padre bellissima l'umeria l'ho condivisa in giro per tutti i gruppi dico ma quanto mai dico perché noi capite questo dipende magari invece tu pensi che hai fatto una bellissima cosa e magari non ha tutto quanto questo grande effetto da cosa dipende questo non lo sappiamo dipende dal fatto che le anime sono diverse che le corde dei cuori sono differenti per esempio io ho conosciuto un pochettino di autori che parlano della divina volontà io per esempio traggo molto più giovamento ad ascoltare certi autori che non altri anche se altri potrebbero essere molto più bravi molto più esperti perché il nostro come dire il nostro tra virgolette personale gradimento dipende da tante cose dipende magari a uno gli piace un pochino lo stile un po' più intraprendente un po' più un po' più forte qualcun altro invece gli piace ascoltare uno che parla in maniera pagata tranquilla cioè se uno gli piace uno lo faccia apposta uno che parla in questo modo lento tranquillo sereno non può ascoltare le cose che dici mi penso proprio buono a parlare così non ce la posso fare non è che lo faccia apposta cioè ci sono grazie a Dio tanti santissimi sacerdoti che parlano in questo modo e a voglia sicuramente si attingerà senza nessuna rivalità gelosia invidia che non esistono queste cose maggiore giovamento da uno stile di questo genere non così cioè ecco perché dobbiamo leggere 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 perché capace che tu un giorno sono tre mesi che sto leggendo queste cose non ce la capisco niente va avanti tu continua a leggere bel giorno che ti stai fare una bella lampadina che il nostro signore ti aspetta non lo so al 24 marzo del 1931 non so neanche cosa esiste questa strada qui no dici ma come mi sono andato a leggere nati 35 anni descritti che ti posso fare figlio mio cioè lo scritto tuo è 24 maggio 1931 è lì che il nostro signore ti toccherà e ti farà come dire partire lo cervello ti parte la brocca non capisci più niente e cominci a innamorarti da divina volontà con il titolo da prete dico questo è perfettamente normale cioè le anime sono un mondo misterioso delicato delicatissimo poi tra l'altro personalissimo se c'è una cosa che sto imparando io è che il rispetto che si deve avere insomma il rispetto proprio in senso etimologico del termine cioè respicere vuol dire guardare con ammirazione e con delicatezza cioè stando molto attento cioè tu stai dinanzi di una cosa fragile delicata e preziosa e di stavolta attento a mio avviso tu dici così io dico così ecco bisogna stare molto attenti perché il nostro signore che sa come lavorare le anime noi preti diciamo io prete sono molti più i danni che possiamo fare quando facciamo qualche movimento maldestro che non le cose positive questo io lo assicuro insomma quindi più aumenta il rispetto e meglio è perché le anime sono mondi delicati allora le anime sono tutte diverse allora per esempio a me sto scritto di oggi mi fa impazzire magari qualcuno si è staccato che dice Leonardo ha pure messo questa cosa dentro l'antologia del brano non mi sembra che tutto sto granchetto ho scritto è possibilissimo d'accordo e non è che uno si offende o non si offende perché siamo diversi d'accordo quindi non cioè le sfumature nelle varie sensibilità sono potenzialmente infinite perché le anime sono tutte diverse d'accordo ma nostro signore che era stessa sapienza ecco perché dice perché 36 volumi poteva fare una cosa un po' più piccola fa un volume solo fa un bel concentrato come fa tutto Leonardo 50 catechei spiega tutto quanto e poi è finito e no Dio non fa così comunque la Bibbia stanno 2950 pagine insomma scritte è lunga la Bibbia se solo leggisela tutta uno ci mette una vita no? ma il nostro signore sa cioè la Bibbia è stata messa in mano la Bibbia circola in giro da sacco di tempo insomma poi si è formata gradualmente sapete tanta gente che ha letto la Bibbia quante persone che nei monasteri ci hanno passato le giornate intere magari un passo che tu non leggerai mai magari quello se si è fatto un'ora di meditazione e ti è venuto a mente chissà cosa cioè non possiamo sapere tutte queste cose qui ma Dio le sa e quindi dice a lui sa tu state sita tu scrivi tutto questo è il compito che c'hai tu poi lo so io perché te lo faccio lì capite? quindi ecco il discorso no? un detto un effetto una similitudine sulla mia volontà dice Gesù può essere come una ruggiata benefica sulle anime come benefica la ruggiata sulle diante dopo una giornata di sole ardente come una pioggia di rotta dopo lunghi mesi di siccità tu non puoi capire tu non puoi capire tutto il bene la luce e la forza che c'è dentro una parola ma il tuo Gesù lo sa attenzione e sa a chi deve servire e il bene che deve fare per questo che ho detto Gesù ci aspetta ai marchi qual è la parola per te qual è lo scritto per te quale bene farà Gesù lo sa tu devi soltanto mettere da seduto e legge ora mentre ciò diceva mi ha fatto vedere nel mezzo della chiesa guardate scusate io spero tanto di poterlo vedere questo giorno mi piacerebbe tanto vederlo dal pianeta terra se no pazienza se da un'altra parte mentre ciò diceva mi ha fatto vedere nel mezzo della chiesa un tavolo e tutti gli iscritti sulla divina volontà messi sopra molte persone venerande circondavano quel tavolo e uscivano trasformate in luce divinizzate e come camminavano comunicavano quella luce a chi incontravano nel mezzo della chiesa un tavolo con gli iscritti ah oh io me ne immagino questa scelta immagino questi iscritti che stanno su un bel tavolo saluto davanti al Papa e ai cardinali o altri insigni uomini di chiesa che estasiati cominciano a vivere queste cose e a proporle a tutti i fedeli sentite qui è possibile passare qualche sognarello di questo tipo Gesù aggiunge tu lo vedrai dal cielo il gran bene ma lui se sei morta grazie a Dio no grazie a Dio poverino è un pezzo che sei morta sei morta nel 1947 quindi tu lo vedrai dal cielo il gran bene quando la chiesa riceverà questo alimento celeste attenzione che fortificando la chiesa risorgerà nel suo pieno trionfo attenzione alle parole ecco io quando l'ho letta dico il trionfo della chiesa il trionfo del cuore immaculato di Maria Fatima questi sono pensieri miei e allora che cos'è il trionfo del cuore immaculato di Maria è il trionfo della Dino volontà il regno della Dino volontà è chiaro queste sono idee mie personali quindi lasciatele perdere come fantasie di un povero prete mattacchione quindi però tu lo vedrai dal cielo il gran bene quando la chiesa riceverà questo alimento celeste che fortificandola la chiesa risorgerà nel suo pieno trionfo avete capito perché ho detto vogliamo fare del bene alla chiesa vogliamo affrittare il trionfo della chiesa facciamola finita con l'alimentare lo sfascismo nella chiesa lo sfascismo una volta c'era il fascismo no? mo c'era lo sfascismo sfascio tutto ci stanno i guai ci stanno i disastri anziché metterci un velo e pregare ah no ci metto il carico da undici ma che siamo matti puntando il tiro a destra e a sinistra vomitando fango contro mia madre che era a chiesa comincia a fare gli atti nella divina volontà fare le penitenze nella divina volontà fare le preghiere nella divina volontà soprattutto vivi nella divina volontà e poi vedrai che succederà quando questo diventerà vita della chiesa quando arriverà sto giorno benedetto con questo tavolo imbandito e gli alti venerande persone che lo circondano trasformate in luce divinizzate chiediamo alla madonna che questo giorno venga presto e speriamo di avere capito bene questo lo dico per me che il trionfo del suo cuore sia davvero il trionfo del regno del fiat supremo e il suo avvento nelle anime nella chiesa e poi di ripresso nel mondo ci vediamo ci sentiamo se ti vuole la prossima settimana una mia benedizione a tutti ave maria grazie